Il mondo è pieno di dati. Se provassimo a mostrarvi tutto in ogni momento, vi trasferireste semplicemente in una grotta perché ne sareste sopraffatti. Ci sarebbero così tante cose. L'intelligenza artificiale ci darà la possibilità di capire cosa è importante per voi e di portare quelle cose alla vostra attenzione e non tutto il mondo. Ma credo che la cosa importante sia capire la prospettiva dell'operatore. Il loro primo pensiero, purtroppo, sarà un perderò il lavoro. E questo non è assolutamente vero per questa tecnologia. Quello che faremo con questa tecnologia è migliorare notevolmente il loro lavoro. Se si pensa a qualcosa che gli esseri umani potrebbero fare, ma che sarebbe davvero noioso per loro, probabilmente è una buona cosa che si potrebbe fare con un IA. Trovate i comportamenti continui e non preoccupatevi di risolvere tutto. Trovate l'80% dei casi e risolveteli per primi, mentre per alcuni non è possibile risolverli. Serve ancora un umano, ma puoi fornire all'umano informazioni migliori per prendere quelle decisioni. Ma la cosa importante dell'intelligenza artificiale è che sono solo sistemi. E se si vuole fare la cosa giusta con loro, un essere umano deve decidere. Questa è la cosa giusta. Facciamolo! Non toglieremo le mani dal volante. Non possono guidare la nave al posto vostro. Non toglieremo le mani dal volante.